Come martedì e come tutti i martedì anche per questo 2013, iniziamo la rubrica del 6x4 e oggi vi suggerisco un pranzo appunto per quattro persone con i giusti nutrienti per una dieta equilibrata, facile, veloce da preparare, ma soprattutto per una dieta del vostro portafoglio. Allora, prendete carta e penna. Oggi come primo piatto facciamo dei tagliolini all'uovo agli agrumi. Che pranzetto, tagliolini all'uovo agli agrumi. Io vi dico che non possono costare più di 2,40 euro, stiamo parlando per dosi per quattro persone. Nel secondo piatto facciamo alice al forno gratinate, costano 3,50 euro. E poi ci aggiungiamo una mela a testa, cioè quattro mele per una spesa di 0,85. Totale stiamo a 6,75 euro. Mi pare un ottimo pranzo per quattro persone. Adesso passiamo ovviamente ai consigli pratici per realizzare questo bel pranzetto. Allora, per il primo piatto acquistate due confezioni da 250 grammi di tagliolini secchi e naturalmente ci vuole un limone e un'arancia. Sbucciate gli agrumi e tagliateli a tocchetti. Disponete il tutto in una ciotola dove poi condirete la pasta una volta lessata. Al mercato, quando acquistate limone e arancio, controllate che la provenienza sia italiana, che abbiano il rametto e le foglie ancora verdi e che significa che sono freschi e appena colti. Ricordate che la maggior parte delle proprietà nutritive di arancia e limone risiede nella parte tra la buccia e la polpa. Quindi non private quando li tagliuzzate di questa parte, molto molto importante. Per il secondo piatto acquistate 700 grammi di alici. Fatevele pulire o li pulite bene voi. Disponete tutto in una pirofila subito dopo averle impanate con del pane grattugiato mescolato con del rosmarino. Irrorate il tutto con un filo di olio extravergine d'oliva e a chi piace macinare sopra un po' di pepe fresco. Quando acquistate le alici, guardate bene l'etichetta che per legge deve riportare la denominazione del pesce e soprattutto la sua provenienza indicata con la scritta mare mediterraneo oppure con la scritta zona FAO 37.1. Ricordate o mar mediterraneo o zona FAO 37.1. Chiudete il vostro pasto con 4 mele golden, belle, buone del trentino e con il picciolo naturalmente ben attaccato che dimostra la freschezza del frutto. Non mi rimane altro che a queste quattro persone che gli ho fatto spendere 6,70 euro che augurare buon appetito.